No al calde! 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 La misma porqueria! No al calde! La misma porqueria! Saliendo a las calles hay si quieren un armurilamiento de las comillas en el Víctor Lange. come corrisponde, effettivamente è necessaria una participazione attiva non solamente del distrito di Vittor Larco questa è una protesta pubblica di tutti quelli che ci siamo sentiti ofenditi per queste pratiche inhumane, disleali e indigna di pretende imponerse di la peor forma a través di voti golondrinos siamo qui in consenso la gran maggiori di candidati che hanno participato per vocazione democratica però che lamentablemente stiamo vedendo posposta nostra pretensione politica legittima come ho diceva prima, per queste pratiche indigna siamo qui in piede di luce, non vamos a permetter che si impongano qui non gozano di la preferenza del popolo Ustedes contano con prievas per fare la denuncia? Por supuesto che sì, dentro del plazzo di lei noi abbiamo interposto nullità al processo del distrito di Vittor Larco per existire grandi irregularità abbiamo presentato sende, sende, constatazioni di domicilio che credono facendo che i cittadini hanno venito di altri strani e che non radicano necessariamente nel distrito di Vittor Larco che quede chiaro io, non radicano nel distrito di Vittor Larco abbiamo anche alcuni casi in materia di comprovazione che hanno cambiato, hanno cambiato domicilio con posteriorità al cierre del padrone electoral questo è gravissimo, si viene orquestando un fraude a mayor escala e questo non lo possiamo permettere Ustedes denunciaron anche che vendranno a essere lavoratori di la municipalità Efectivamente, abbiamo fatto menzione di alcuni casi abbiamo fatto menzione di alcuni casi del municipio, per esempio, di Vittor Larco come funzionari che peticionano licenza sin goce di avere, reintegro di beneficio eccetera, e loro mesi consignano i sui domicilii reali in la ciudad di Trujillo come è che dopo apparece votando in Vittor Larco questo dimostra chiaramente che c'è un indicio di irregularità che deve investigarsi senza dubbio una volta per aca, claro, claro Usted ha podito recogere las... Usted ha podito recogere las declarazioni di alcuni vecini Vittor Larco che dice che come candidata per questa jurisdiczione No la escuché, discúlpeme Usted ha podito recogere alcuni alcuni vecini Vittor Larco muchas declarazioni muchas declarazioni sobre il particolare muchas la gente conoce plenamente quali sono i domicilii dove existen varios vecinos che non habitano in la jurisdiczione del distrito di Vittor Larco correcto questo è di conoscimento pubblico solo che non si toma accion però desde qui quiero decirle a tutti che ci stanno guardando e soprattutto a chi stanno dietro di questa mafia non le abbiamo conoscimento e per questo siamo qui battagando con i nostri direlli non le abbiamo conoscimento e non vi non vi permetter che si posicione quando non gozano della preferenza del pollo il pollo unito il pollo unito il pollo unito il pollo unito il pollo il pollo unito il pollo unito 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 il pollo unito unito No, è la salvaguarda a un derecho electoral che abbiamo al aver sido elegito per la maggioranza di Víctor Larquense. E abbiamo le declarazioni di uno dei candidati a Víctor Larco, che preside questa marcha contro la corrupzione e il fraude della OMP. Signor Moran, voi venire un momento perché abbiamo un'occhiata per la corrupzione e il fraude. Perché abbiamo più di 50 evidenciazioni che ci permettono determinate che queste sono lezioni irregolari, dove ci sono stati indici di manipulazione, di scendimento e di parzializzazione. Abbiamo ingresato i documenti al jurado electoral special, oggi abbiamo un altro ciumulo di pruebas, qui abbiamo il folder dove posso io credere, con videos e con fotos, il conjunto di evidenciazioni e lezioni che conduzono a che queste elezioni a livello di Provincia di Trujillo sia annullata. Usted ha detto che se si Manuel Yenpen va a una seconda volta con lui, potrebbe ganarlo. Asi è, tengo la plena sicurezza che in una seconda volta io le daria a Manuel Yenpen. E' per questo che hanno fatto questa manipulazione grosera di votazione, per che, di maniera adrede e artificiosa, la APP possa avere più di 32%, quando realmente non è così. A mio modo di entendere, credo che abbiamo una manipulazione di circa 5 punti percentuali. Consecuentemente, deve annullarsi la elezione della Provincia di Trujillo e di questa maniera si convoca una seconda volta. E di questa maniera considero io che stiamo giocando le elezioni a la APP, perché non si può continuare con questo manejo descarato e grosero di la volontà popolare. Ertana Aquino, regidora della Municipalità di Trujillo e anche militante di APP, ha señalato o insto a militanti della APP che lo retiren a queste le parti del Partito della estrella, perché praticamente non è un buon perdedore. Io non mi sento a livello del signor Aquino, che converse con altri compagniari perché non sta a mio livello per poter obietarmi, aconsejarmi a qualcosa. Io voglio retar a Acuña e retar a Yenpen e che Aquino hable con altri. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti